Sì Presidente faccio una rapidissima illustrazione per entrambe gli emendamenti, uno è proprio una correzione tecnica perché come dicevo la scadenza per la presentazione delle istanze al Ministro dell'Infrastruttura e Trasporti è stata prorogata dal 30 settembre al 31 dicembre quindi andiamo a correggere questa parte nel dispositivo e poi come dicevo in accordo anche con l'assessore Meleo che ringrazio inseriamo un altro punto in questa chiamiamola lista da Consiglio del Ministero che è quello della stazione della metro C di Piazza Venezia quindi affermando e ribadendo la volontà di realizzare questa importante stazione anche in vista della prosecuzione della linea e del lavoro che si sta facendo nel Pumse.